Ivo piangendo i miei passati tempi, i quaiposi in amar cosa mortale, senza levarmi a volo, abbiendo io l'ale, per dar forse di me non basti esempi. Tu che vedi i miei mali indegni ed empi, re del cielo invisibile e immortale, soccorri all'alma di sviate e frale, e il suo defecto di tua grazia adempi. Si che si ovissi in guerra ed in tempesta, mora in pace e in porto, e se la stanza fu vana, almensia la partita onesta. A quel poco di viver che m'avanza, e dal morir degni esser tua man presta. Tu sai ben che in altrui non ho speranza. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Il sonetto che vi ho appena proposto non è sicuramente tra i più famosi del canzoniere di Francesco Petrarca, al contrario. Si tratta del sonetto numero 365, cioè della penultima delle 366 liriche che, come ormai sapete bene dai precedenti video, compongono nel loro insieme il canzoniere Petrarca Esco. Negli ultimi sonetti, nelle ultime poesie di questa bellissima raccolta di liriche, trova spazio una nuova tematica, che non troviamo nelle poesie che già conosciamo, la tematica della preghiera rivolta a Dio. Se voi guardate anche soltanto alcune parole colorate in azzurro nel testo, ad esempio a riga 5, a riga 8, a riga 13, a riga 14, vedete quante parole facciano riferimento a Dio. Tu, tua, nuovamente tua, e poi di nuovo tu. Noi sappiamo che spesso, nei sonetti di Petrarca, il protagonista è la parola io. Petrarca parla molto volentieri di se stesso. In questa bella poesia, invece, c'è una sorta di dialogo, e, come vedete, io e tu si alternano più volte nel testo. In quale anno siamo? Come spesso capita per le poesie di Petrarca, non abbiamo una data precisa, ma forse qualche volta riusciamo ad essere un po' meno vaghi del solito. Forse questa poesia risale all'anno 1358, o addirittura a qualche anno dopo. Dunque siamo una decina d'anni almeno dopo il 1348, cioè l'anno del fatto decisivo, la morte di Laura. Laura ormai non c'è più, è soltanto un ricordo, Petrarca comincia a diventare anziano e medita sulla sua esistenza, e si pone il problema della fine della sua vita e della sua vecchiaia. Rileggiamo questo bellissimo sonetto, strofa per strofa, e, come sempre, proviamo a fare insieme un po' di commento del brano. Partiamo dalla prima delle due quartine, che dice così. I vo piangendo i miei passati tempi, I qua i posi in amar cosa mortale, Senza levarmi a volo, abbiendiolale, Per dar forse di me non basti esempi. Come vedete, la prima parola dell'intero sonetto è il pronome personale di prima persona, io. Petrarca chiarisce fin da subito che parlerà di sé. Cosa sta facendo il poeta? Io vo piangendo i miei passati tempi. Io sto ricordando tra le lacrime, compiangendo, il mio passato, la parte più vecchia della mia vita, nella quale che cosa facevo? Riga 2. I qua i posi in amar cosa mortale. In questo tempo lontano, in questo tempo passato, l'interesse di Petrarca era l'amore. Era tutto dedito ad amare una cosa mortale. Queste parole, peraltro come vedete piuttosto generiche, cosa mortale, sono di fatto l'unica allusione esplicita a Laura all'interno dello stesso sonetto. E come vedete è una sorta di anomalia. Pensate a tutti i testi che abbiamo letto sinora. La protagonista spesso è lei. Qui invece Laura diventa semplicemente un ricordo, quasi un dettaglio di un passato piuttosto lontano. In sostanza, se volessimo sintetizzare i primi due indecassillabi, vi potremmo dire, ho dedicato gran parte del mio passato, della mia vita, ad amare una cosa mortale. Cioè destinata a concludersi una cosa difettosa, non certo Dio, qualcosa di immortale. Cioè una creatura, Laura. Poi nelle righe 3 e 4 si fa un altro tipo di considerazione, aggiungendo queste parole. Qui il poeta sembra, per così dire, piuttosto incerto. Osservate ad esempio la parola forse, presente alla riga 4. Amando Laura, il poeta le dedica, come sapete, decine di poesie. E dice alla riga 4, forse sono riuscito a dare di me esempi non bassi. Qui c'è la figura retorica che si chiama litote. Nelle parole non bassi. Cosa significa? Piuttosto elevati. Ricordiamo che cos'è una litote? E' quella figura retorica che consiste nel negare il concetto opposto. Per dire alto, dico invece non basso. Qui probabilmente Petrarca sta pensando al suo lavoro, diciamo così, di poeta. Forse è riuscito a farlo piuttosto bene e a conseguire dei risultati non bassi, cioè di un discreto livello. Abbiendo io l'ale, avendo io le ali, cioè un certo talento, però aggiunge pur senza levarmi a volo, senza riuscire però a spiccare completamente il volo. Come vedete, la tematica dell'amore, la tematica della poesia, della scrittura, tutto rivolto al passato. Se ci pensate effettivamente, questi quattro versi che abbiamo appena letto sintetizzano due grandi passioni di quest'autore che lo hanno accompagnato nel corso di quasi tutta la sua vita. Da un lato l'amore per Laura, dall'altro lato l'amore per la poesia, per la letteratura, per l'arte. Come osservate facilmente, leggendo la riga 5, dal verso 5 in poi tutto cambia in questa poesia. E si dice così. Tu che vedi i miei mali indegni ed empi, re del cielo invisibile, immortale, soccorri all'alma disviata e frale, e il suo defecto di tua grazia ad empi. Partiamo innanzitutto dalle righe 5 e 6. Tu che vedi i miei mali indegni ed empi, re del cielo invisibile, immortale. Dicevamo che questo sonetto in fondo è soprattutto una preghiera, e come ovvio Petrarca sta pregando Dio, che viene definito così, prima con il pronome tu, alla riga 5, poi con un giro di parole, con una sorta di perifrasi. Dio viene descritto come re del cielo, quindi come signore dell'universo, come creatore del mondo, come invisibile, dunque misterioso, vedremo Dio solo dopo la nostra morte, dice Petrarca, e come immortale. Notate qui un'antitesi, fra l'aggettivo immortale, riga 6, e l'espressione cosa mortale, che abbiamo prima notato alla riga 2. Potremmo dire da un certo punto di vista che Dio sia esattamente l'opposto di Laura. Dio non è una creatura, come lei. Dio è il creatore. Dio è il re del cielo. Dunque qui si cambia completamente registro. Dall'amore per le cose terrene, si passa a parlare dell'amore per Dio. Cosa fa Dio alla riga 5? Vede di Petrarca i suoi mali, i suoi difetti, i suoi peccati, che vengono definiti indegni ed empi. Con una figura retorica che ormai conosciamo bene in quest'autore, la dittologia. Cioè utilizzare due termini, in questo caso due aggettivi, che esprimono più o meno lo stesso concetto per rafforzarlo. I miei terribili peccati, potremmo dire così. Dio è onnisciente, conosce ogni cosa, e dunque conosce il cuore del poeta. E secondo lui, secondo Petrarca, è pieno di peccati di cui bisogna chiedere perdono. Infatti, alla riga 7, c'è proprio una richiesta d'aiuto a Dio. Soccorri all'alma di sviata e frale è il suo defecto di tua grazia ad empi. Cioè, vieni in soccorso, aiuta, la mia alma, cioè la mia anima, che viene anche qui definita con una dittologia, disviata e frale. Belli questi due aggettivi. Disviata letteralmente vuol dire che ha perso la retta via, che è uscita dal sentiero giusto, e che è frale, cioè fragile. Quindi, la mia anima peccatrice è molto fragile. E ad empi, viene quasi da tradurlo con e riempi, il suo difetto, i suoi peccati, i suoi difetti, le sue mancanze, con la tua grazia, con il tuo amore, con la tua bontà, con il tuo intervento divino. Come vedete dunque, la prima parte della poesia è facilmente divisibile in due sottoparti. una quartina, la prima, nella quale Petrarca parla di sé tutto al passato, e una seconda quartina, nella quale si parla soprattutto di Dio, come di un Dio che probabilmente potrebbe aiutare il poeta ad uscire dai suoi mali indegni ed empi. Vediamo ora le due terzine, la seconda metà del sonetto. Partiamo dalla prima delle due terzine, che dice così, sì che se io vissi in guerra ed in tempesta more in pace e in porto e se la stanza fu vana almen sia la partita onesta. Ho cercato di mettervi in evidenza, colorando con colori diversi alcuni vocaboli, di mettere in evidenza, dicevo, una figura retorica che Petrarca utilizza tantissimo in quasi tutti i sonetti, cioè l'antitesi, l'opposizione di termini che hanno un significato diverso. Notate quante antitesi. Si parla prima di guerra e di tempesta e poi dei loro opposti, della pace e di un porto sicuro. Poi un'altra contrapposizione tra stanza e partita, ma vediamole con calma una per una. Ripartiamo dalla riga 9. Sì che, così che, cioè in modo tale che, vedete che la frase è la conseguenza di quello che è stato detto prima, così che, se io, Petrarca, ho vissuto la mia vita, vissi, in guerra ed in tempesta, due termini negativi, possa morire almeno, riga 10, in pace, in serenità e in porto, cioè in un porto sicuro. Che io possa, per così dire, portare in un porto tranquillo la mia vita che è stata così burrascosa, piena di guerre e di tempeste. E se la stanza fu vana, almeno sia la partita onesta. Qui combinazione due vocaboli, stanza e partita, che potremmo definire, se fosse latino, dei falsi amici. Cioè delle parole che, a prima vista, nell'italiano di oggi, hanno un significato completamente diverso da quello reale del passato. Qui, stanza ovviamente non indica una camera, deriva dal verbo stare, stare fermi, trovarsi in un luogo. Cosa significa? E se la mia permanenza nel mondo è stata vana, vuota, inutile, se ho sprecato la mia vita, in parole più semplici, almeno sia la partita onesta. Partita dal verbo partire, nulla a che fare dunque con lo sport. Almeno la mia dipartita, il mio allontanamento dal mondo, cioè la mia morte, sia per bene, sia onesta, il contrario di quello che è stata la mia vita. Tutto un gioco, come vedete, di antitesi, di contrapposizioni, guerra e pace, tempesta e porto sicuro, stanza e partita. Come vedete, il poeta esprime una preghiera, un desiderio, un augurio rivolto a se stesso. Ammette di aver sprecato quasi tutta la propria esistenza, ma di essere in qualche misura intenzionato a concludere con il piede giusto, vivendo bene l'ultima parte della sua vita. Ed ecco la preghiera vera e propria, contenuta nella seconda e l'ultima terzina, che leggiamo dal verso 12 in avanti, e che dice così. A quel poco di viver che mi avanza, e dal morir degni esser tua man presta, tu sai ben che in altrui non ho speranza. Vediamo di fare la parafrasi. Dunque, per quel poco che mi resta da vivere, dice lui, per quel poco di vita che mi rimane, e anche per la mia morte, per il giorno della mia morte, degni esser tua man presta. Ti chiedo questo, Dio, di tendermi la mano, di fare in modo che il tuo intervento sia pronto perché ne sento la necessità. Come a dire, vorrei sentirti o Dio più vicino in questi ultimi giorni che mi restano da vivere e soprattutto al momento lui direbbe della sua partita, cioè del suo allontanamento dal mondo, il giorno della sua morte. E chiude con questo bellissimo indecasillabo. Tu sai ben che in altrui non ho speranza. Se ci pensate, lo ammetteva lui stesso, Petrarca ha speso gran parte del suo tempo, la maggior parte della sua esistenza, nello sperare lui direbbe in cose mortali, nell'amare cose mortali. Ad esempio una bellissima donna, Laura, ma questo amore è stato effimero, non lo ha portato assolutamente a nulla di concreto. Nell'amare la letteratura, i libri, l'arte, ma sono cose che finiranno con la fine della sua vita. Nell'amare ad esempio la ricerca del successo, nel cercare in maniera quasi spasmodica l'affermazione poetica, la gloria, il diventare un poeta famoso, ma sono cose che evidentemente non ci possiamo portare nell'aldilà, o che addirittura ci possono portare a disviarci, direbbe lui a rega 7, cioè sul cattivo sentiero. Per un buon cristiano, nel Medioevo, l'unica vera fonte di speranza non sono le cose mortali, non sono i beni di questo mondo, ma il bene che troveremo nell'altro mondo, dopo la morte, cioè Dio. E dunque al poeta non resta nient'altro da fare che fare questa affermazione tu sai bene, o Dio, che in altrui non ho speranza. E notate una cosa, queste continue opposizioni fra io e tu, fra io e Dio, che pervadono tutto questo sonetto, si ricompongono, quasi che i due personaggi, io e Dio, si abbracciassero proprio nell'ultima indica sillabo. Tu sai bene, che io, Petrarca, non ho speranza in nessun altro. Concludiamo rileggendo il testo di questo sonetto 365, la penultima poesia dell'intero canzoniere di Petrarca, che dice così. Ivo piangendo i miei passati tempi i quei posi in amar cosa mortale, senza levarmi a volo abbiendo io l'ale per dar forse di me non bassi esempi. Tu che vedi i miei mali indegni ed empi, re del cielo invisibile e immortale, soccorri all'alma di sviata e frale e il suo defecto di tua grazia adempi. Sì che si ovissi in guerra ed in tempesta, more in pace e in porto e se la stanza fu vana almen sia la partita onesta. A quel poco di viver che m'avanza ed al morir degni esser tua man presta, tu sai ben che in altrui non ho speranza.